Musica 8 giugno ben ritrovati con Tg Mattino in una giornata che si apre con la folita informazione mattutina della rassegna stampa di TRG sul canale 13 e proseguirà poi nel pomeriggio con la diretta dell'ingresso in diocesi di Città di Castello del nuovo vescovo Luciano Polucci Bedini, già vescovo di Gubbio, che seguiremo in diretta dalle 17 in poi, ma avremo tempo per parlarle. Intanto passiamo subito ai quotidiani, prime pagine nazionali, messaggero Italia verso emergenza gas, primo sì all'Ucraina nell'Unione Europea. Si teme il blocco totale dalla Russia, il governo riapre le centrali a carbone, la commissione a Kiev, pronti a morire per noi, meritano di entrare. E poi ancora, per quanto riguarda ulteriori notizie che arrivano purtroppo anche dall'Umbria, le pallavoliste travolte dal tir mentre la squadra era in campo. Incidente sulla 1, muoiono due ragazze. L'Aziale è avvenuto ieri intorno alle 14.30 sull'autostrada del Sole, tra i caselli di Fabro e Chiusi. Due donne, 35 anni, un originario di Sant'Angelo Romano, l'altra di Tivoli, in provincia di Roma, hanno perso la vita in seguito a una drammatica carambola proprio sul tratto in questione della A1. Veniamo anche alla Nazione per quanto riguarda la prima pagina. Estate torrida, incubo, acqua razionata, si legge sul quotidiano. La situazione è già disperata, soprattutto al nord. Si studiano le contromisure, compresa la chiusura dei rubinetti per fasce orarie. Multa antisprechi, regione per regione, danni all'agricoltura, il climatologo, arrivi al supercaldo, ecco quello che ci aspetta. Putin, intanto liquida l'Occidente, nella fotonotizia centrale ha fallito, dichiara lo zar. L'era americana è finita e di mezza il gas all'Italia, qui in foto al forum economico che si è tenuto a San Pietroburgo, il presidente russo Putin. Dalle città invece dell'Umbria, terribile incidente, perdono la vita due donne, traffico nel caos sulla A1. Il prete fedeli, basto mertà sulle baby gang. E poi da Perugia, il Duomo ritrovato, restauri finiti e festa grande. Veniamo quindi agli approfondimenti all'interno dei quotidiani. Dal messaggero, le mosse di Bruxelles, ingresso nell'Unione, il primo sì all'Ucraina. È un giorno storico, si legge sul quotidiano. In foto, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, chiede il via all'Unione proprio con indossi colori ucraini. La Commissione indica il Consiglio di riconoscere a Kiev lo status di candidato, pronti a morire per noi, devono poter vivere il sogno europeo, ha detto proprio Ursula von der Leyen. Sostegno anche al leader della Moldavia, mentre è stata rinviata la decisione sulla Georgia. Dal sistema giustizia agli oligarchi, la riforma obbligatoria per Zelensky, il cammino è ancora lungo, l'Unione Europea attribuisce particolare rilevanza alla lotta alla corruzione, qui il confronto tra il premier ucraino Zelensky e quello britannico Johnson. La risposta del Cremlino da San Pietroburgo parla Vladimir Putin, che attacchi i governi non europei a sanzioni folli. Cadranno, ha detto. Il discorso di San Pietroburgo in ritardo per un blitz hacker, finito il dominio USA in Europa, arriverà presto un'ondata di radicalismo e cambieranno le élite. Ha detto lo zar che elogia il coraggio dei soldati impegnati in Ukraine avverte, il nucleare se servirà lo useremo, ha dichiarato dinanzi la pladea di fedelissimi Putin. L'intervista a Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali ed ex commissario europeo. In scena il plateale tentativo di interferire nelle democrazie, ma è un copione già visto, ha dichiarato l'ambasciatore che dichiara la minaccia dell'armia atomica e serve a coprire il flop sul campo. La sua tese è che l'Europa è ostaggio della linea dura degli americani. Le forniture dalla Russia, gas, si teme lo stop totale verso lo stato d'emergenza via agli impianti a carbone. Gazprom dimezza i rifornimenti alleni a Tarvisio, entrati 34 milioni di metri cubi. Il mite convoca un tavolo sull'energia entro la metà della prossima settimana. La strategia di Putin per tenere alti il prezzo e costringere l'Europa a chiedere aiuto poi in inverno. Qui proprio nel grafico anche le forniture del gas in Italia nei punti di approdo dei gasdotti, Tarvisio, Masara, Melendugno, Passogrie, Gela e la produzione nazionale spiegati nel grafico. Intanto per alberghi e ristoranti bolletta più cara di 27 miliardi, questa la stima fatta da Confcommercio. Se le centrali attive in Italia scatta la corsa contro il tempo per aumentare la produzione, tornando a parlare proprio di carbone, l'utilizzo a pieno regime di tutti gli impianti può ridurre la dipendenza del gas del 50%, tra le centrali anche quella di Civitavecchia. La crisi alimentare, grano, lo zarra pre all'ONU, i turchi, si aggirino le mine. Nazioni Unite al lavoro per convincere Mosca a garantire corridoi sicuri dai porti. disposti a parlarne, ha detto Putin, Macron è scettico, rafforzare la rotta. Rumena ha dichiarato quel deposito di maestre cereali che darebbe il primato all'Europa prima dell'invasione dei russi, le vendite all'estero dell'Ucraina hanno raggiunto 19 milioni di tonnellate. Veniamo dunque alla nazione che riparte proprio da qui. Il Cremlino ora ci dimezza il gas. L'Italia verso lo Stato d'allerta. Il governo deciderà la prossima settimana dopo gli ulteriori tagli alle forniture da parte di Gazprom. Se Mosca continuerà a chiudere i rubinetti potrebbero essere imposto il razionamento di alcune industrie. Il gruppo SNAM ha acquistato una nave rigassificatrice da posizionare a largo di Piombino, dunque sulle coste toscane. È stato sbagliato passare da un 20% di gas nazionale nel 2000 a un 3-4% nel 2020. Questa è l'accusa da parte del ministro Cingolani. E poi l'accusa di FederConsumatori. Fu la benzina rincaro ingiustificato di ben 32 centesimi. L'aumento dei carburanti pesa sulle famiglie per 384 euro in più all'anno. FederConsumatori chiede un intervento più incisivo. Il carico dell'IVA va definito sul costo netto dei carburanti di fatto per evitare situazioni speculatrici. Il supercaldo ci costa già 2 miliardi per quanto riguarda l'emergenza climatica. Niente piogge, un'estate catastrofica. Danni all'agricoltura, la mappa della sete. Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna sono le regioni più colpite dalla siccità. Il meteorologo Mercalli avverte che a breve arriveremo a 40 gradi in tutta la penisola. Lo stress idrico si può solo aggravare, ha dichiarato qui in foto proprio Luca Mercalli. Per quanto riguarda la situazione, coltivazione a rischio preoccupa il vino. Emilia Romagna, Lombardia, Marche e anche l'Umbria sono tra le regioni con il bollino rosso. Il raccolto dei cereali presenta rese inferiori al 20% rispetto al 2021, scrive la Nazione. Per quanto riguarda la regione verde, in cali il risultato delle coltivazioni di verdura. Purtroppo problematica anche per quanto riguarda Toscana, Piemonte e Sardegna, nonché la Liguria. Anche situazione che riguarda l'incubo cavallette e raccolti da salvare. Nei prossimi 15 giorni, nessun rovescio in previsione, si rischiano scenari di guerra. Tutti contro tutti per quanto riguarda la cosiddetta acqua contesa. Acqua razionata anche nelle case, ancora dalla Nazione. Il rischio rubinetti chiusi la notte. L'estate deve ancora cominciare, ma ci sono già le ordinanze dei comuni. Multesalate contro gli sprechi. I gestori dei servizi pubblici chiedono aiuto agli enti locali. Si valuta di abbassare la pressione nelle tubature. Si potrebbe arrivare all'erogazione solamente al mattino in case estremi, mattino, mezzogiorno e sera, con autobotti nelle strade. Vietato innaffiare e riempire piscine e lavare l'automobile con l'acqua pubblica. Questi alcuni disagi per i cittadini plausibili. Intanto allarmi in Franci, 40 cadi di Parigi e le scuole sono costrette a chiudere. Anche sul messaggero, siccità, itali in ginocchio, coltivazioni di mezzate e razionamenti di acqua, col diretti, danni per 2 miliardi di euro e gli agricoltori rinunciano a seminare. Piemonte, ordinanze in 170 comuni, fornitura irrica solo per usi alimentari. Vedete qui la cartina dell'Italia con i diversi colori per i gradi di siccità. Dal rosso più estrema al verde, umidità moderata, l'Umbria è tra l'arancione, siccità severa e giallo. Siccità moderata per quanto riguarda la situazione proprio della siccità. Caldo record da domani fino a mercoledì e le notti saranno tropicali, scrive proprio il messaggero. Qui nella foto gli effetti della siccità nel cremasco con i fiumi in secca come il Po, mai così negli ultimi 70 anni, segnale il quotidiano. E poi la cronaca che riguarda anche l'Umbria, incastrati in a uno tra i tir, la tragedia delle pallavoliste, sempre dal messaggero. Incidente tra Fabro e Chiusi muoiono due ragazze della provincia di Roma. Viaggiavano per andare alla partita nel centro Italia a viabilità, bloccata per ore. Le vittime avevano entrambe 35 anni, lo scontro tra autoarticolati ha coinvolto anche altre vetture con 4 feriti gravi. A provocare il tambonamento, forse un sorpasso tra camion che procedevano a velocità eccessiva, scrive il messaggero. Il terribile groviglio di Lamiere, anche da questa foto, questo risultato dal terribile impatto tra un tiro e diverse auto, tra cui la Panda su cui viaggiavano le due vittime, che si è verificato attorno alle 14 di ieri fu l'autostrada del Sole, al confine tra Umbria e Toscana, all'altezza dell'uscita di Fabro. Veniamo quindi anche al Corriere dell'Umbria. Rincari, Kodakons, stangata da 2713 euro. L'inflazione arriva al 6,8%, non raggiungeva questo tasso dal 1990. I prezzi dei beni al consumo sono destinati a salire. Secondo l'Associazione di Consumatori, ovvero Kodakons, siamo in presenza di una vera e propria emergenza nazionale. Per i caro prezzi, anche l'energia, più 61% in quattro mesi, per quanto riguarda le stime che destano preoccupazione. E poi, invece, passando alle pagine regionali, prime pagine regionali, dal Corriere dell'Umbria, termovalorizzatore, stop al progetto. La Regione respinge la proposta di A2A avanzata per Gualdo Tadino, un impianto sovradimensionato e non coerente col piano rifiuti. Questa, dunque, la spiegazione da parte della Regione Umbria, che ferma, di fatto, il progetto termovalorizzatore A2A, Gualdo Tadino, presentato da questa società. Poi lo vedremo. Perugia ha intanto presentato il restauro del Duomo nella fotonotizia centrale, la celebrazione ieri pomeriggio, dopo un anno di lavori di restauro per le facciate della Cattedrale di San Lombardo. Lorenzo, restaurata come si evince dalla foto. Taglio alle corse dei bus, via quelle con pochi passeggeri. La prima trans prevede 842.000 km in meno fino a settembre per un risparmio di quasi 2 milioni di euro. Altra riduzione prevista entro il mese di dicembre. Intanto alberi caduti e strade allagate nelle ultime ore nella Regione. A Foligno, Quintana, Corteo e oggi sfida per quanto riguarda appunto la Kermesse Folignate. Da Terni, Asta, Arvedi nel CDA aspetta un lavoratore e poi da Sisi, Ladri saccheggiano un supermercato. Per quanto riguarda lo sport, nel box a destra, calcio, Perugia, allo sprint per Casasola può essere il primo acquisto dell'era Castori. Ternana, oggi la festa per la prima Serie A, ricorda anche il Corriere che ricorda anche come sia ufficiale che Braglia si sia legato al Gubbio fino al 2024. È firmato proprio nella giornata di ieri l'allenatore toscano che diviene per il prossimo biennio il tecnico rosso-blu. Veniamo anche alla Nazioni, il Duomo ritrovata, anche qui Perugia, restauri finiti, la piazza riconsegnata alla città. Inferno in autostrada, morti e feriti, spaventoso incidente tra Fabro e Chiusia, perdere la vita due donne, traffico nel caos per ore. Fotto la testata, la cronaca, finiscono in manette il signore della droga e i membri della gang Perugia sequestrati. 12 kg di stupefacente per quanto riguarda questo clan nigeriano che è stato sgominato. Ancora minacce con un fucile, naviga sul sito di incontri e viene ricattato. Da Villa Pitignano invece, prete coraggio, anti-baby gang, parrocchiani dovete denunciare, dichiara. Tra caldo e maltempo, alto nubifragio a San Sisto si apre una voragine. Ancora, reati a Terni, 16 anni di pena, preso all'estero il super ricercato che ora è in carcere. Per quanto riguarda anche la cultura e gli eventi, nel box in basso, poesia, il verso più antico, l'ha scoperto un perugino, c'era alliva agli albori della letteratura italiana. E poi Foligno, la sfilata in centro è tornata dopo due anni, corteo che spettacolo e stasera c'è la giostra per quanto riguarda la Quintana, pronta a ricolorare la città di Foligno. Passiamo dunque al messaggero, siccità o grandine, assalto assicurazioni per richiesta danni. Centinaia di richieste dopo le tempeste di Grandine, evento di mercoledì a ieri, tante aziende agricole che sono andate. K.O. e poi la cronaca, sono il padrone della città, preso super boss dello spaccio, Perugia, blizza, fonti vegge, chili di eroina e usura, quattro gli arresti. Quindi, entro il 2028 impianto da 160.000 tonnellate, rifiuti, gestore unico e tariffa puntuale per alleggerire le bollette. La fotonotizia riguarda l'inferno sulla 1, morte. Due donne a Fabro, Italia tagliate in due per l'incidente che si è verificato sull'autostrada del Sole. Ancora Perugia, Duomo, i complimenti da parte di Draghi, il premier italiano dopo il restauro, Quintana, Foligno e sfida al Super Cassero. Mentre per quanto riguarda ancora Perugia, brutta avventura per un ragazzo, cerca amicizie online minacciato con un fucile. E poi anche la soddisfazione di Pac 2000 Conad, bilancio d'oro, al primo posto in Umbria per quanto riguarda l'azienda Pac 2000. Quindi le notizie di carattere sportivo, Perugia, Grifo, Casasola, primo tassello a ore, anche la risposta del portiere Cicizzola che potrebbe restare in bianco rosso. Ternana, cinquantenario dalla Serie A, eternamente. Rosso Verdi, i protagonisti di quella storica annata ripercorsa anche dal messaggero. E poi per quanto riguarda il volley, Sir per il caso Travis Alealla archiviate le accuse di razzismo al palleggiatore. Allora in forza la Sir è stato ceduto proprio nelle scorse settimane a fine campionato, insomma dopo la fine del campionato. Questo per quanto concerne dunque le notizie nelle prime pagine regionali, facciamo il nostro tour online partendo dal nostro sito www.trgmedia.it che è nella home in primo piano a Città di Castello perché si è conclusa il convento dei Zoccolanti, il cammino del vescovo Luciano Polucci Bedini pronta a servire questa chiesa assieme a quella di Gubbio. Come detto dalle 17 ci sarà anche la diretta su TRG, lo ricordiamo, canale 13, dall'ora 17 sarà in diretta da Piazza Capriotti per seguire il saluto delle istituzioni civili a Monsignor Polucci Bedini. Quindi dall'ora 18 si proseguirà con la diretta della messa in cattedrale arricchita per l'occasione da commenti e ospiti dunque per quanto riguarda il pomeriggio che avrà come protagonista proprio la celebrazione dell'entrata nella chiesa Tifernate del nuovo vescovo Luciano Polucci Bedini. Scorrendo le altre notizie, Gubbio Braia c'è la firma con tanto di foto, il tecnico mare in mano si lega ai colori rosso-blu per i prossimi due anni. Nel contempo c'è stato anche l'esonero di mister Torrente, Braia che avrà appunto ora la pesante eredità di Torrente che ha fatto molto bene anche nell'ultima stagione da accogliere e portare avanti. Scorrendo le altre notizie, rifiuti Assessore Morroni, respinta in stanza per realizzare impianti di recupero energetico a Gualdo Tadino, sovradimensionato e non coerente con norme e previsioni del piano regionale, ha detto. E poi con il nostro archivio video sempre aggiornato, sempre www.trgmedia.it Veniamo a Umbria 24, traffico di eroina a Perugia, arrestato il pusher che si ispirava ad American Gangster, quattro nigeriani in manette per affrontazione delinquere, c'è anche un caso di usura con interessi pazzi, anche un cittadino italiano coinvolto. Tragedina 1, morti e feriti in un incidente tra Umbria e Toscana, e poi chicchi di grandine come pallini da ping pong colpita da zona a confine tra Umbria e Toscana in particolare. Perugia Today, sono il padrone della città, in manetti il più grande di tutti gli spacciatori, era in attività dal 2008, quindi prende una bastonata l'ex datore di lavoro per farsi pagare TFR e stipendi, ben tre a giudizio. Perugia, tre nomi per la successione del Cardinale Bassetti, Marconi, Giulietti, Sigismondi, in testa al Toto Vescovo, scrive Perugia Today. Tuttoggi.info, che ha visto un incidente sulla 1, morte, due donne, sei i feriti. Gubbio Egualdo, autovelox nascosto dopo molta annullata, Comune annuncia ricorso, convinti di garantire la sicurezza, l'amministrazione comunale di Valfabrica dopo la decisione del giudice di pace. Tanti altri ricorsi di automobilisti sono stati respinti, ma nessuno ne ha parlato. E poi, giovane scomparso da Foligno, trovato morto nelle campagne di Montefalco. L'allarme per la scomparsa è scattato mercoledì, giovedì sera il drammatico ritrovamento, proprio nella zona di Montefaico. NotiziaDiretta.it si alza in sipario sull'Umbra Film Festival, presentati il programma del festival che animerà Montone dal 6 al 10 luglio, le chiavi della città al noto attore olivideano Stalletucci, e poi ancora i motori della Miglia Emilia che hanno scaldato Umbertide, partiti i lavori di allaccio delle petrelle all'acquedotto, e lavori estivi per ragazzi, domande entro il 29 giugno con 21 posti disponibili. Veniamo a Gualdo News. Giochi delle porte, sabato 18 giugno torna la cena dei 100 giorni, per quanto riguarda l'evento che poi si terrà chiaramente a settembre a Gualdo Tadino. Agli alunni delle medie di Nocera e Valtopini, il patentino dello smartphone, e la Fondazione Perugia che supporta le scuole per attrarre fondi nazionali ed europei. Torniamo dunque ai quotidiani, torniamo al Corriere dell'Umbria, in primo piano proprio Gualdo Tadino, termovalorizzatore, stop impianto di Gualdo Tadino, la regione ha bocciati, il progetto che fa capo ad A2A, depositato la scorsa settimana, la società replica, una scelta affrettata. E poi fallimento di stillerie, più di mezzo milione di credito pubblico, la stima del comitato Molini di Fortebraccio. Nel 2035 pro capita in discarica 36 kg, invece di 211. La previsione del nuovo piano gestione integrata dei rifiuti, preconizzata anche la chiusura dell'impianto di Borgo Giglione, qui proprio in foto la discarica magionese di Borgo Giglione, per cui c'è la prospettiva della chiusura. Quindi i trasporti in primo piano, scatta taglio delle corse, scrivi il Corriere, si parte con 842 mila chilometri in meno durante l'estate. Ulteriore riduzione poi tra settembre e dicembre. Cambia anche la ripartizione dei fondi TPL ai comuni. Maltempo, nubifragio, strade allagate, alberi caduti vicino alle auto, è successo in varie zone soprattutto di Perugia e provincia. Ancora, appoggio della regione al Gay Pride, Pilon chiede di ritirare il patrocinio. Scontro sull'elettura al crobaleno per bambini dai 2-10 anni annunciate per oggi. Ad Amelia. La polemica, Bucaioni replica alla governatrice Tesei, istituzioni considerate feudi medievali, dichiara. Quindi, aeroporto San Francesco, il bilancio torna positivo dopo il rosso del 2020. Chiusura dell'esercizio a 6.195 euro dopo il deficit del 2020. E 20, veniamo alla Nazione. Blitz antidroga, arrestato il padrone della città. I carabinieri sgominano una banda di nigeriani dedita allo spaccio. Quattro finiscono in manette. Sequestrati 12 chili di stupefacente, 86. Mila euro. Due degli indagati, con la complicità di un italiano, prestavano peraltro soldi chiedendo interessi del 120% all'anno. Dunque, anche l'usura dietro alle operazioni dei malviventi. Sette precari storici del Comune. C'è l'accordo. Riceveranno 11 mensilità per non procedere con la causa nei confronti dell'amministrazione. Ancora contatta sito online di incontri, ma viene minacciato un uomo armato e col volto travisato. Chiede soldi al 34enne. Indaga sul caso. La polizia. E poi dalla polfer, tre mesi di attività sui treni e non solo. Persone rintracciate, servizio antiborseggio e sicurezza dei trasporti. Questo è il bilancio della polfer del comparto Marche, Umbria e Abruzzo. Ancora la cronaca dalla Nazione. Inferno in autostrada. Due morti e otto feriti. Le vittime, la zia, le avevano 49-37 anni. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta schiacciata tra due tir. Traffico bloccato per ore sull'autosola. Gli accertamenti sono affidati ora alla stradale di Orvieto anche per in qualche modo ricostruire la dinamica dell'incidente. Alla Guido Umbriaco è stato denunciato a Perugia e poi per l'operazione Borghi Sicuri la città e i ponti passati al setaccio dai controlli della polizia. Bandali. Chi non denuncia non farà il padrino. A Villa Pitignano, Don Nicolo Gaggia, a cui in foto si schiera contro le baby gang del paese e ammonisce i parrocchiani omertosi. Fate come me. Ha interrotto la messa per intervenire e ha messo in salvo alcuni bambini minacciati, Don Nicolo Gaggia. Quindi, sempre dalla Nazione, restauro della cattedrale, ecco la bellezza ritrovata. Complesso monumentale di San Lorenzo, presentato in recupero delle facciate. L'intervento esalta Piazza 4 Novembre, simbolo della città. Rimarca il Cardinale Bassetti, per quanto riguarda il restauro proprio della cattedrale perugina. Progetto completato in meno di un anno, ricorda, facendo anche una cronostoria dei lavori, la Nazione. Passiamo al messaggero. Siccità o maltempo? Centinaia di richieste di risarcimento danni. Assalto alle assicurazioni da parte dell'azienda agricole danneggiate. Negli ultimi giorni ci sono state delle tempeste di grandine e vento. L'allarme lanciato dalla Col di Retti, si parla di 14 miliardi. E poi rifiuti, gestore unico e tariffa puntuale, per alleggerire le bollette. Il nuovo piano regionale punta su riciclo e termovalorizzatore, impianto da 160 mila tonnellate. PAC 2000, bilancio d'oro, al primo posto in Umbri. Il Colosso raggiunge 554 milioni di fatturato nei 203 punti vendita. Il Presidente Librandi in 50 anni raggiunti i mille soci imprenditori. Qui in foto, tra le foto, il Direttore Cicognoli, il Presidente Librandi e a destra l'amministratore delegato Danilo Toppetti. Numeri positivi che sottolineano la solidità dell'importante cooperativa. Tante le iniziative di solidarietà a sostegno del sociale, cultura e comunità, ricorda proprio il messaggero per quanto riguarda PAC 2000 Conad. E poi campus estivi, 5,5 milioni dalla regione per le famiglie. In foto, l'assessore regionale con delega all'istruzione Paola Agabiti. Quest'anno accedere al contributo sarà anche più semplice, costo standard e tre fasce di età, ricorda proprio il messaggero. Ulteriori approfondimenti di carattere regionale, ancora dal Corriere restaurate le facciate del Duomo. Cerimone di presentazione pubblica dopo l'intervento di restyling della Cattedrale di San Lorenzo, con interventi durati 12 mesi e seguite con il bonus edilizio istituito dal Governo, ricorda anche la Nazione, anche il Corriere dell'Umbria, scusate. La ricorrenza, poi celebrati il Corpus Domini, rinnovare la nostra fede. Quindi, per la cronaca, anche il Corriere puntualizza sui fiumi di eroina, i quattro arresti, ad Aprile Carabiniere avevano già sequestrato nove chili di droga purissima a Fontiveggi. In manetta anche un 44enne nigeriano, che si faceva chiamare il padrone della città, ed era il pusher più temuto. Ci sono anche tre indagati per prestiti, con tassi del 120% su base annua. Umbriaco alla guida è stato denunciato, un 23enne fermato e sottoposto a controllo da parte della Polizia, sempre a Perugia. E poi, sempre per la cronaca, minacciato e ricattato dopo l'iscrizione un sito di incontri. Un 34enne abbiato, una conversazione con due donne, poi è stato videocontattato da un soggetto incappucciato con un'arma in mano. Alla vittima, un uomo ha detto di essere il capo di un gruppo criminale. Questo è il messaggio, c'è l'indagine in corso da parte delle forze dell'ordine. Con le strada, 30 milioni per i dipendenti e il reddito annuo generato per i 1350 posti di lavoro previsti dopo l'ampliamento. Incontro tra Eurocommercia, la società proprietaria e i vertici regionali della CGL. Stimati 250 nuovi occupati nel cantiere, 600 addetti alle vendite. Queste le opportunità occupazionali con l'ampliamento del centro commerciale di Collestrada. Sistema di interscambio, obiettivo migliorare la viabilità riducendo così l'inquinamento. Project Coach, un supporto per gli istituti scolastici. Siglato il protocollo tra Fondazione Perugia e Ufficio Scolastico Regionale. Per quanto riguarda l'Umbria, selezionate otto figure che aiuteranno ad attrarre i fondi dell'Unione Europea. hanno aderito in 26 scuole che saranno agevolate anche nella risoluzione di criticità, scrive proprio il Corriere dell'Umbria. Veniamo al messaggero Duomo. I complimenti anche del Premier Draghi, inaugurato il restauro della Cattedrale San Lorenzo, finanziato dalla Fondazione Cucinelli e Daeni. La messa di Bassetti e i saluti del Premier una nuova luce su piazza 4 novembre, ha detto anche il sindaco Romizzi. Romizzi durante la cerimonia, poi nel ricordo di Niccolò, Ponte Valleceppi, le nostre idee per le strade più sicure. Niccolò era un ragazzo, un adolescente di appena 11 anni che è venuto a mancare il 30 luglio scorso proprio in un tragico incidente in bicicletta. E poi, per quanto riguarda invece l'Albodoro, approvate le iscrizioni in consiglio, dunque, per quanto riguarda i nomi degli iscritti all'Albodoro della città di Perugia per il 2022 in occasione del 20 giugno. Distilleria, tanti debiti con gli enti pubblici, scrive proprio anche il messaggero. E poi, anche qui la cronaca, sono il padrone, preso boss dello spaccio, Fontiveggie, Blitz dei Carabinieri, in manette il Frank Lucas dell'eroina e tre trafficanti, Frank Lucas, riferito al noto film American Gangster con Russell Crowe e Denzel Washington di Ridley Scott. Chili di droga in città e provincia, nigeriano, si ispirava proprio ad American Gangster di Scott, sono il più grande di tutti, anche Usura, con un perugino che è coinvolto nella vicenda. Diti in famiglia, armi sequestrate sempre nel perugino e poi incappucciate con il fucile, minaccia, ragazzo, alla ricerca di amicizie online. Questo, dunque, per quanto riguarda i territori ancora sulla Nazione, Nubifragio, mezza città, Lagatea, San Sisto, cede la strada. Un downburst ha colpito il capoluogo di Sadia Madonna Alta, Pian di Massiano, ma oggi torna anche il sole. Downburst, colonna d'aria fredda, in rapida discesa, all'interno di una nube temporalesca che arriva al suolo con gran violenza. Ci fossero i nostri amici di Umbria Meteo che torneranno nel caffè a settembre, e ce lo spiegherebbero in maniera ancora più coercitiva. Con le strade, intanto, via libera anche dalla CGL, Eurocommercia, l'incontro positivo, assunzioni per chi ha perso il posto di lavoro. E poi, Albo d'Oro, superati il test del voto segreto. Un solo franco tiratore fra i 30 consiglieri, scrive la Nazione, confermati Groman, Frondini, Monsignor Rocchetta e l'Istituto dei Salesiani del Don Bosco. E poi anche il premio Cerevisia, programmati i migliori birrifici. Otto sono Umbri, settore più che mai vivace con la cerimonia che si è tenuta a Deruta per quanto riguarda i migliori birrifici della penisola. Chiudiamo così la pagina regionale, apriamo quella dei territori e lo facciamo, riprendendo proprio anche la notizia in risalto nel nostro sito con l'arrivo a Città di Castello nel tardo pomeriggio di ieri di Monsignor Luciano Polucci Bedini che oggi, come detto, con diretta dalle 17, e fu la nostra emittente farà il suo ingresso ufficiale nella diocesi Tifernate unendo in persona episcopi le chiese di Gubbio e Città di Castello. Sentiamo proprio le parole di Monsignor Polucci Bedini al suo arrivo al Convento dei Zoccolanti. Si è concluso con l'arrivo al Convento dei Zoccolanti il pellegrinaggio di tre giorni del Vescovo di Gubbio Luciano Polucci Bedini che partito giovedì dalla Chiesa della Vittorina ha raggiunto Città di Castello dopo aver attraversato a piedi il tratto della via di Francesco che da Gubbio conduce verso la Verna un viaggio da pellegrino accompagnato da un gruppo di laici e religiosi per andare in fronte al suo nuovo incarico quello di Presule della diocesi Tifernate numerose le manifestazioni di apprezzamento e sostegno a questo suo pellegrinaggio sotto un sole cocenti di giugno da parte di singole associazioni la piccola accoglienza Gubbio le forelle del piccolo testamento di San Francesco gli scout di Mascia Gesci l'associazione Le Rose di Gerico e l'associazione Sentieri di Felicità così Monsignor Polucci Vedini racconta l'esperienza vissuta negli ultimi tre giorni e le suggestioni in vista di quanto accadrà tra poche ore nella cattedrale Tifernate molto bello sia per l'ispirazione francescana che ci ha accompagnato in questi giorni sia per l'accoglienza e l'ospitalità della gente che è stata veramente eccezionale e che non è mancata in nessun passo del cammino bello camminare con tanta gente che si è alternata durante i giorni questo desiderio di arrivare qui in semplicità sulle orme di Francesco adesso si conclude qui al convento degli Zoccolanti alle porte di città di Castello sicuramente stanchi affaticati anche per il tanto caldo però veramente grati al Signore per l'esperienza che ci ha dato di vivere insieme di questo camminare insieme come fratelli e come sorelle sicuramente c'è davanti a me un grande impegno che mi attende però so solo di essere un piccolo strumento nelle mani del Signore in una chiesa che già cammina molto bene grazie al lavoro anche di Monsignor Canciane e di tutti i suoi collaboratori io vengo qui a servire questa chiesa per quello che è possibile cominciando a camminare insieme anche a quella di Gubbio così come il Signore ci indica anche attraverso le parole del Papa Francesco e ripartiamo dal messaggero dai territori perché perché sul messaggero si riporta proprio ciò che abbiamo appena visto città di Castello il Vescovo arriva a piedi Monsignor Luciano Polucci Bedini ieri pomeriggio al Convento dei Zoccolanti metà finale di tre giorni sulla via di Francesco oggi alle 16.30 sarà al Santuario di Santa Maria delle Grazie poi alle 17 in Piazza Gabriotti e alle 17.30 ingresso in Cattedrale ricorda ancora a Canale 13 TRG con tutta la giornata del Vescovo dell'ingresso del Vescovo nella diocesi Tifernate in diretta sulla nostra emittente Magione allerto Zono superati i limiti scrive sempre il messaggero e da Città di Castello rinnovati il patto anticriminalità con telecamere sulla E45 è stato esplicato il protocollo Assisi task force di esperti in città per valorizzare i siti patrimonio UNESCO PD lì a Todi va ricostruito un partito radicato sulla città ai giovani caccia ai traditori queste le reazioni dopo le recenti elezioni comunali da Foligno in primo piano la Quintana e sfida al Super Cassero Innocenzi vuole l'Olimpo stasera Foligno batticuore per la Giostri il Pertinaci imbattuto da quattro edizioni cerca di raggiungere nell'albodore i grandissimi il mercato Cavalieri ha rivoluzionato i binomi in corteo a sorpresa anche Miss Benfatto con il Palio che arriva direttamente dall'Ucraina Badia ok in prova il Giotti li trova Gubbini inseguono Chicchini della Spada Zannorri della Mora e Paci della Croce Bianca si va verso il penone così gli ultimi biglietti per assistere al campo degli giochi alla Quintana di questo giugno 2022 sempre da Foligno emergenza sangue arriva l'esercito preziosa collaborazione tra abis e militari del centro di selezione e reclutamento nazionale in trenta guidati dal generale Spano hanno risposto all'appello per la comunità intanto Zampolini eletto presidente della SIR società italiana di riabilitazione neurologica questo l'incarico proprio per quanto riguarda Mauro Zampolini che Folignate è diventato presidente in carica ciclo rifiuti un summit con delegazione palestinese a Foligno e a Trevi oggi nasce il parcolo agricolo con spazio rurale l'inaugurazione ci sarà alle ore 18 per quanto riguarda trame naturali a Trevi le radici interessano il futuro questo il nome del progetto ed a Spello è l'ora delle infiorate che tornano per offrire un grandissimo spettacolo torna appunto l'infiorata a Spello dopo due anni di stop dovuti alla pandemia si inizia già nel tardo pomeriggio tutta la notte poi giornata di domani conclusiva per quanto riguarda le infiorate del Corpus Domini che illumineranno la città di Spello da Spoleto due mondi mano gigante sul teatro area di festival in piazza Duomo spunta l'installazione della fondazione Carla Fendi Maria Teresa Venturini un messaggio per preservare i beni artistici e dare valore al passato ha dichiarato Maria Teresa Venturini Fendi dunque a piazza del Duomo sulla facciata del Melisso e la fondazione Carla Fendi che come lo scorso anno con la riproduzione dell'opera di Sollevit si è fatta artefice di un intervento artistico per l'appunto e poi prosciutte vino le eccellenze si incontrano per i prodotti tipici spoletini ospedale associazione al sindaco si pronunci per quanto riguarda la sanità quindi ancora il vescovo strigli il comune per il paico davanti al Duomo è polemica dunque e poi per un anticipo di sport i fratelli Saverio e Vittorio Bartoli convocati in nazionale giovanile di palla canestro Vittorio che è un 2002 pivot che gioca a Capodorlando anche se di proprietà di Treviso mentre Saverio è con la Lux Chieti tutti i due in serie a due di palla canestro hanno avuto anche la soddisfazione di essere convocati da coccio Alessandro Magro per il raduno della nazionale under 20 a Roseto degli Abruz ricorda il messaggero come anche un altro cestista Umbro Spoletino Alessandro Cappelletti ha giocato da protagonista la finale per salire in serie a uno di palla canestro perdendo con la sua Udine contro Verona proprio nella finalissima playoff quindi da Terni rifiuti ai giochi distrutti ferita alla memoria di David Villaggio Matteotti rabbia dei residenti doveva essere un esempio per i ragazzi il parco dedicato al giovane ucciso è abbandonato da tempo all'incuria Largo Cairoli più scavi l'ipotesi anche dei resti romani per quanto riguarda i ritrovamenti distanzi 12 anni di Piazza Valnerina potrebbero Narni diventa un caso sarà studiata a livello nazionale scrive il quotidiano Amelia l'arcobaleno del Pride torna a sfilare in Piazza le associazioni dopo due anni di stop causa pandemia tornano a manifestare per l'orgoglio LGBT e poi Novamont cassa spostata di un mese ma resta il nodo energia Fabrizio Framarini della Cis l'accordo di programma per il polo chimico oltre al PNRR ci sono altri fondi disponibili ha detto invece Di Stefano e poi Narni non dorme mai a teatro anche all'alba con i 99 posse gruppo storico rap napoletano via le sede dal Manini show alle 5.30 invece per lo spettacolo di Sabina Guzzanti al Superfestival anche appuntamenti per i bimbi omaggio a Ennio Morricone Francesco Brandi protagonista l'autore di File della Grecia diretto da Riccardo Sinibaldi premio nazionale della performance di Leaf installazione di Mario Martone nella solitudine dei campi di Cotone Orvietingare intanto torna alla sfida tra i quartieri sulla rupe viene considerato l'evento più sentito per vincere la corsa i dieci frazionisti si all'erano l'intero anno e poi auguri a Sofia 101 anni e tanto amore da dare per quanto riguarda Sofia Giocondi che ha compiuto proprio 101 anni originaria di Piediluco maternana da sempre scrive proprio il messaggero poi vedremo lo sport passiamo però al Corriere dell'Umbria Castione del Lago sempre per i territori nuovo progetto sperimentale per studiare il lago Trasimeno l'impronta dell'acqua coinvolge Arpa comuni, scuole e associazioni saranno analizzate anche insieme all'artista Roberto Ghezzi per quanto riguarda biodiversità ed ecologia tra le finalità c'è anche quella di realizzare un percorso turistico all'isola Polvese dunque a Panicali invece necessario tavolo di crisi per la vicenda Trafomec lo chiedono i sindacati che sollecitano la regione a rischio il posto di lavoro per ben 80 persone quindi invece da Assisi l'altra al supermercato rubano 6 prosciutti succede anche questo nel bottino pure altri generi alimentari e prodotti per l'igiene il colpo nella notte al baglio le immagini delle telecamere malviventi nell'abitazione di una donna morta un mese fa un altro furto sempre nella zona Assisana a Tordibetti i proprietari hanno sentito rumori sospetti hanno messo in fuga proprio i ladri incidente invece sulla provinciale tra Palazzo e Petrignano frontale fra due auto ferito anche un bimbo ultimi concerti per incanto sulle vie di Francesco domani gli appuntamenti musicali in città per la nona edizione della manifestazione a Bastia Umbra commissione revisione migliorati presidente il consigliere della Lega necessario adeguare statuto e regolamento mentre a Ospedalic il memorial Zeffiro Raspa alle 17 al campo sportivo ma prima al cimitero il ricordo dell'amico scomparso veniamo invece a Todi turismo recuperate altre due cisterne romane entro il mese terminano i lavori in uno dei luoghi più richiesti dai visitatori a Marsciano incontro in biblioteca con i camminatori Fagioli e Ridolfi hanno percorso migliaia di chilometri raccontano le loro esperienze l'iniziativa è in programma oggi alle ore 18 veniamo a Gubbio mostra mercato 18 stand espongono tartufhe estive prodotti agroalimentari scusate ieri mattini il taglio del nastro in piazza San Giovanni si va avanti fino a domani con giochi per i più piccoli e tanti appuntamenti intanto a Nocera Umbra da oggi festa della Fisarmonica per omaggiare alunni Pantaleoni si comincia alle 15.30 in piazza Umberto con il gruppo Folk Spoletino Gualdo Tadino a processione trappi alle finestre tappeti di fiori nelle strade torna così in città la solennità del Corpus Domini 5 messe previste nella cattedrale di San Benedetto veniamo a città di Castello si parla della diga di Montedoglio lavori finiti a luglio il presidente uscente di EAUT Domenico Caprini fa il punto sull'invaso durante un sopralluogo centro storico affollato per i negozi aperti di sera piacciono gli esercizi commerciali con l'orario lungo rinnovata per oggi intanto il patto di legalità la firma tra il sindaco secondi e il prefetto Gradone il vescovo arriva a piedi accompagnato da cento pellegrini Monsignor Polucci Medini era partito da Gubbio mercoledì scorso oggi alle 16.30 la cerimonia d'ingresso in diocesi per quanto riguarda il presule come abbiamo già visto da Umbertide ospedale posti ridotti in RSI medicina a causa delle ferie la carenza di personale porta alla riorganizzazione dei servizi opposizioni all'attacco Umbertide Cambia torna a criticare il sindaco Carizzi e la mozione della Lega in consiglio regionale parla per Città di Castello anche il capogruppo di Castello Cambia Arcaleni chiarezza sull'ascito Mariani annuncia la presentazione di un'interrogazione in consiglio comunale e poi da San Giustino piazza Municipio torna Isola Pedonale nelle serate estive l'area ospiterà numerosi eventi andiamo a Foligno Giostra scocca l'ora della sfida Luca Innocenzi parte super favorito il rione Cassero spera di festeggiare l'ennesimo successo intanto il corteo storico ha regalato emozioni è tornato dopo due anni di stop causa pandemia ed è stato un grande successo sotto ogni punto di vista regione Abruzzo intanto dice sia il metanodotto sul mona Foligno Presidente Marsilio basta mistificazione abbiamo dato parere favorevole perché l'opera è compatibile con le normative tecniche quindi per quanto riguarda ancora Foligno 30 militari donano sangue si rinnova la sinergia con Avis mentre Valtopina prende reddito di cittadinanza indebitamente denunciato una cinquantenne italiana chiesto il sequestro dei 6.500 euro incassati veniamo anche a Spoleto Regione chiede Anas di ricostruire il ponte dell'ex ferrovia pressing dell'assessore Melasecche per realizzare il cavalcavia sulla Spoleto Norcia battuto nel 1998 lavori ritenuti necessari per garantire la sicurezza lungo il tracciato stabilimento di Bagliano salvaguardare occupazione Puletti della Lega chiede incontro sulla vicenda del sito personale in pensione non ancora rimpiazzato dalle nuove assunzioni quindi opere dei detenuti mostra in cattedrale sempre a Spoleto andando invece al Festival dei Due Mondi gestione nel mirino delle opposizioni serve incontro con sindaco e direttrice artistica qui in foto proprio Monique Woot iniziativa delle minoranze inserite figure professionali avulse dalla macchina già collaudata intanto la corsa dei Vaporetti entra nel vivo oggi qualificazioni e domani le gare per quanto riguarda la corsa spoletina porchettiamo è tornata la regina del cibo di strada Gualdo Cattaneo la manifestazione prosegue durante il weekend con piatti prelibati e tanto divertimento al taio del nastro anche il sottosegretario Battistoni e la presidente Tesei veniamo a Terni Arvedi aspetta un lavoratore nel CDA il responsabile delle relazioni industriali AST Castano nessuna risposta alla proposta confrontiamoci in un clima di normalità dunque e poi ancora assegnate le stelle al merito del lavoro quattro gli insegniti quest'anno in una cerimonia nella sala consigliare di Palazzo Spada e poi parla con Faloni delle FNPC sulla sanità pubblica risposte certe alle esigenze dei pensionati ha dichiarato Campus estivi partita a pieno regime sempre nel Ternano prezzi dai 50 ai 90 euro a settimana le offerte da alcuni dei centri sportivi della città calcolgono i bambini dai 4 ai 14 anni spaccio di cocaina condannata coppia di dominicani il processo 5 anni e un 47enne due alla compagna i proventi investiti nei combattimenti dei Galli sono stati arrestati dalla Mobile per questo fatto di cronaca che ha riguardato proprio una coppia di dominicani quindi la prima del film di Carolina Michelangeli al The Space la baby attrice ternana appena 8 anni al debutto cittadino sul grande schermo nel film di cui è protagonista il paradiso del Pavoni in programmazione proprio al cinema di Terni e poi la cronaca schianto sulla 1 morte due donne traffico in tilt per ore nuova tragedia sull'autosole nel tratto a cavallo tra le province di Terni e Siena in monopattino senza fare lo stop si sconda con un'auto è successo nell'incrocio delle vie tra Rismondo e Baracca e poi da Narni progetto nazionale sulle rievocazioni il ministero sceglie la corsa all'anello la manifestazione storica chiamata a rappresentare l'Umbria nell'iniziativa condotta dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del MIC veniamo anche a Orvieto le Apacini e Conticelli da ore per sempre nella storia della città a due orvietiani illustri cui si deve la nascita del corteo sono state intitolate ieri due zone del centro cittadino le parti interessate portano adesso il nome lo slargo di Corsocavure il tratto Treve del Popolo e Piazza Cimicchi dunque sono state scoperte le targhe toponomastiche c'era anche il sindaco Roberta Tardani oltre familiare i membri dell'associazione Le Apacini alle cerimonie che si sono svolte proprio nella mattinata di ieri a Monteleone d'Orvieto verso il restauro della pala d'altare della chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Allerona valorizzare boschi e risorse naturali per bloccare il calo demografico il sindaco torna sulla firma dell'accordo per la Green Community il sindaco di Allerona Basili veniamo anche ai territori dunque invece dalla nazione Castiglione chiamata raccolta per una giornata plastic free appuntamento domani alle 8 sul lungo lago eliminare i rifiuti nel nome dell'ambiente tutti sono invitati a partecipare venendo invece ad Assisi Torre del Popolo i lavori vanno scrive il quotidiano quasi indirittura d'arrivo agli interventi su uno dei monumenti simbolo della città sopra il luogo anche con il sindaco Proietti mentre Bastia Umbra si inaugura la Eco una goccia che fa la differenza la cooperativa vara oggi il nuovo servizio residenziale socio-sanitario per i ragazzi minorenni mentre da Marciano Media Valle Tevere non si può rimanere senza un ospedale la minoranza promuove per domani una manifestazione di protesta ai giardini orosei da Gubbio a Roma ad Umbra nella piazza di Don Matteo inaugurata nel luogo noto per la Fiction TV ora spostata a Spoleto la mostra mercato del tartù festivo e dei prodotti del territorio parliamo ovviamente di piazza San Giovanni che ospita la manifestazione termovalorizzatore a Gualdo respinta la domanda della Baldum riporta anche la Nazione e poi da Nocera Umbria il comune chiusura per piazza Umberto I e nuova differenziata in arrivo città di Castello la diga di Montedoglio adesso è più sicura il progetto complessivo ha comportato un investimento di circa 68 milioni in cammino il cammino rave della meta oggi il nuovo vescovo sarà in città Monsignor Polucci Bedini si insedia nella diocesi di città di Castello lo riporta anche la Nazione Umbria Film Festival Chiavi del Borgo a Stalle Tucci come abbiamo visto da Notizia Diretta il cinema il cinema torna a Montone a luglio con una mostra per i primi 25 anni dell'evento Stalle Tucci noto attore hollywoodiano come abbiamo detto ci sarà anche la proiezione di uno dei film di cui il protagonista ovvero Supernova Quintana oggi è il cangiorno della sfida ieri lo spettacolo del corteo storico 800 figuranti per le strade del centro hanno fatto rivivere la magia del barocco con tanto di foto che lo testimoniano a Spello infiorate del Corpus Domini tutto pronto per la grande notte la città è mobilitata per allestire i quadri che in migliaia verranno ad ammirare da tutto il mondo da Spoleto il comune prevede un milione in più di multe la cifra emerge dal bilancio preventivo presentato in consiglio influirà anche l'installazione del nuovo autovelox in foto il sindaco di Spoleto Andrea Sisti e poi per Terni ascolto dei testimoni bambini ora c'è un'aula dedicata all'iniziativa di Soroptimist e Procura un piano intero dedicato alle audizioni con i minori la stanza dotata di giocattoli arredata con mobili colorati dunque quindi da Orvieto capitale della cultura ci crediamo un team di esperti in progettazione per sostenere la candidatura della città della Rupe al lavoro tutta l'estate sottolinea il sindaco Roberta Tardani qui in foto ci ho ritrovato entusiasmo in città riusciremo a unire le migliori energie grande ottimismo dunque per Orvieto per quanto riguarda capitale della cultura come testimonia anche il primo cittadino Tardani polizia stradale a scuola incontro con gli alunni sempre ad Orvieto Ucraina giornata dedicata alla comunità dunque per le iniziative che arrivano proprio dalla città della Rupe chiudiamo questa prima parte con culture e spettacoli in Umbria dalla Nazione viaggio nel tempo nella storia debutta a Perugia Archeofilm da martedì 21 a giovedì 23 un nuovo festival cinematografico al frontone e al museo archeologico dunque oggi intanto l'incontro nell'ambito delle celebrazioni del 20 giugno l'omaggio a Mario Rigoni esterno alle 17.30 alle setre dei giardini del frontone a Perugia sempre dalla Nazione letteratura un perugino trovi il verso più antico e il paleografo Antonio Ceralli dell'Università di Perugia con Vittorio Formentin di Udine per la fine del IX e l'inizio del X secolo è datato appunto il ritrovamento e poi Peter Behan Arte in mostra all'ex Misericordia sempre a Perugia l'album del Corriere archeologia da Oscar Carpet a Perugia dal 21 al 23 giugno la prima edizione del festival internazionale dedicato al cinema di settore ogni sera il pubblico e una giuria tecnica daranno il proprio voto per l'assegnazione dei premi sei le pellicole con produzioni di Francia Spagna Italia viaggio dal Perù all'Egitto dei Faraoni fino al disastro di Pompei oltre alle proiezioni di battite e incontri con protagonisti studiosi e registi letture in Rival Fiume e poesie racconti a Pretola invece appuntamento nei pressi dell'antica Torre e per oggi pomeriggio alle ore 17 dunque e poi ecco il più antico testo poetico italiano l'ha scoperto un paleografo perugino in manoscritto e conservato a Wurzburg in Germania Orti suonanti al Vela Chermessolidale il primo concerto è di Ginevra di Marco per domani spettacolo teatrale Naufreghi per scelta sempre da Perugia e poi ai piedi o in bici weekend di musica e prelibatezze anche sul Messaggero tanti gli appuntamenti in questo fine settimana una guida per due giorni all'aperto tra note cinema e bici e cletterario scrive proprio il Messaggero il ritorno di Sheddy il rapper Perugino con la nuova canzone al secolo Edoardo Chiocci riportato dal Messaggero Shokuking Gusto e Divertimento Gubbio fine settimana con lo Scorzone per quanto riguarda il Festival del Tartù festivo Gezza al Tramonto da Panicale parte il Festival dei Borghi Top e poi da Perugino all'Eno Turismo Gusto e Arte anche al Lago Trasimeno perché scocca Trasimeno terra del gusto e dell'arte proprio da oggi chiudiamo così questa prima parte ci fermiamo qualche istante con la pubblicità poi torniamo con lo sport Grazie a tutti